L'imperativo è vaccinare, vaccinare e vaccinare. E se la campagna massiva è ormai in moto e sembra pure procedere in modo spedito, anche i comuni sono scesi in campo perché questa attesissima operazione di immunizzazione si svolga con il minor numero possibile di disagi, a maggior ragione ora che è rivolta alle fasce più anziane della popolazione. A Tirano, al Civico 7, in Piazza Cavour, grazie alla protezione civile comunale, è operativa addirittura una sorta di sportello dedicato. Nasce un po' dall'esperienza anche di quest'ultimo mese su certe difficoltà da parte delle persone di accesso alla campagna vaccinale. A volte sembrano delle piccolezze, delle stupidate, ma risolvere anche o superare qualsiasi deterrente che può essere presente al fatto che una persona liberamente scelga la possibilità di vaccinarsi è comunque molto importante. Questo centro, che si integra anche con un'altra struttura che è quella del Comune dei Servizi Sociali, permette da una parte velocemente alle persone di prenotare, secondo le loro esigenze, quello che è il giorno e la data per la vaccinazione. Dall'altro è un punto d'ascolto per qualsiasi esigenza dove dovesse sorge. Un punto di riferimento assai utile a cui tutti sono invitati a rivolgersi per qualsiasi necessità. Esistono fasce come persone che in famiglia hanno disabili, persone che curano disabili invalidi non autosufficienti oppure persone anziane non autosufficienti dove il fatto di dover stare via da casa, magari usando il trasporto pubblico perché non hanno il mezzo privato 4-5 ore, può essere una grave difficoltà, soprattutto se non hanno familiari. Servizio di trasporto gratuito anche per tutti i cittadini che hanno difficoltà a raggiungere il centro vaccinale alla palestra dell'Istituto Quadrio de Simoni a Sondrio. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Jauser e Anteas e con la Croce Rossa, è rivolta alle persone disabili, agli anziani e ai residenti nelle frazioni. In questo anno drammatico, sottolinea l'assessore alla protezione civile Lorena Rossatti, come amministrazione comunale abbiamo voluto essere vicini alle persone in difficoltà, sostenendole e aiutandole a superare i problemi causati dall'emergenza sanitaria. Per tutte le iniziative promosse abbiamo potuto contare sulle associazioni del territorio con le quali abbiamo creato una rete che si è rivelata fondamentale per garantire il massimo supporto ai cittadini. Venuti a conoscenza dei problemi di persone sole che non sono in grado di recarsi in maniera autonoma al centro vaccinale, ci siamo subito attivati per risolverli organizzando questo servizio gratuito. Le persone in stato di bisogno con problemi di salute o sole possono rivolgersi alle associazioni e chiedere il trasporto dalla propria abitazione al centro vaccinale di Via Tirano e Ritorno, chiamando Hauser allo 0342-211-667 oppure 333-592-5088, Anteas allo 0342-527-818 oppure 333-444-1441, oppure ancora la Croce Rossa al numero 338-660-7575. Intanto la campagna vaccinale massiva in provincia procede speditamente nei quattro centri di Sondalo, Sondrio, Morbegno e Chiavenna, a quali si aggiunge l'ospedale di Gravedona per il territorio dell'Alto Lago, coinvolgendo i cittadini nati tra il 1942 e il 1951. In questi primi quattro giorni superate le 2.000 prime dosi a tutti i cittadini prenotati che hanno già ricevuto l'appuntamento per il richiamo, previsto dopo almeno 10 settimane per il vaccino AstraZeneca, secondo quanto disposto dalla direttiva ministeriale. I vaccini infatti prevedono tempi diversi tra la prima e la seconda dose, tre settimane per Pfizer, quattro per Moderna e dieci per AstraZeneca. Per il resto della settimana il programma non subirà modifiche con la conferma di oltre 600 somministrazioni al giorno. Come annunciato, si vaccinerà anche sabato e domenica.